Gabby, dove stiamo andando? Andiamo. Hola! Vi registriamo dal grandioso cario della cario della cario. Ora vi portiamo con noi in un quattro anni. Come andiamo? Seguiamo Maria mia. Le scale qui? Saliamo le scale. Le dini? Oddio, non mi ripieni. C'è non! Ora apriamo. Però stiamo cadendo sulla sinistra. Vai vai. Allora. Ora tutti insieme. Voilà! Cioè questo è il marco. Il marco è bello. Accanto della marco è là. Noi stiamo all'accio. e noi ora stiamo camminando. Ok? Stiamo stiamo leggermente camminando per andare di là. Di là. Di là. Ci stanno tristendo il simone. Ciao! Depressi come la morte. Noi no. Eccoli. Eccoli che hanno sonno. Eccoli. Salutate! loro non fanno cosa stanno salutando ma salutano. Perfetto. 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 Tira e ti tira. Wow! Ma cosa è quello? Attenzione a te con la scala di proscita. Ipeco. Procita. Scala di proscita. L'unità. Procita. Tirata. Rischia. No! Vabbè! Ma ci ha sentiti? No! Buonasera! Io e Maria Pia ci tenevamo a immortalare questa nostra figura di merda. Merda, 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 merda. Praticamente a parte i pulivari noi siamo arrivati in questa fantastica isola. La nostra destinazione è Ischia. Pensavamo che questa fantastica isola fosse Ischia. E no. E praticamente il nostro balletto è sempre stato momentaneamente questo. Ischia. 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 Quando all'improvviso abbiamo sentito una vocina da questo artobarlante abbiamo ascoltato una suave voce che ci ha comunicato che siamo in Procida. Che è Procida. Ma vaffanculo. Praticamente siamo appena ripartiti da Procida. Procida. Tramannata Ischia. Ora sì penso che non ci sono altre tappe. Comunque erano dei passageri e noi ovviamente educatamente facevamo così. Normal. Eh. Al che? Allora a primo impatto non ci hanno salutato. Si sono guardati Pietro. Però poi esistendo noi che siamo persone educate ci hanno salutati. E tu? Perché dovevano salutarti? Perché nessuno si stava ad aspettare per salutarti. E quindi ci hanno salutato. il nostro tour di merda continuerà. Ragazzi questa volta è vero hanno accesso alle luci quindi questo significa che siamo arrivati all'isola di Ischia. Vero? Cioè no. Che si dice? Buonanotte. Vabbè ciao. Ecco arrivati qui è l'isola di Ischia. Non si senti. Maria Pia si è fatta mettere le canzone. C'è l'improvviso. Hai scena l'autista. Scusi hai carcine che possono mettere? Niente. Allora questo è il bagno questa è la prima camera da letto con il secondo bagno questa è la cucina il pezzo più bello ve lo rimango per dopo Maria vi ha fatto vedere questa è la seconda camera meraviglia meraviglia e ora andiamo nel pezzo forte della casa benvenuta benvenuta e questo è il quello che si vede Nostro balcone, stamattina. Bastante carino, dai! È durata troppo poco, però. Andiamo a vedere le piscine. È la piscina, da. Ce a trovato? In Paradiso ne improvise, non so birlo. Statico, statico. I canali. Statico, statico. 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 Statico, statico. Allora, di nuovo qui, di nuovo in albergo per l'ultima volta, no non è vero, mani acqua un bagno, però mi è difficile lasciare tutto solo, perché non l'ho goduto abbastanza, però le cose belle durano sempre troppo poco. … … E ... … … … … Grazie a tutti.